Salve, vediamo adesso come creare un brano in Note of Light partendo da un inizio preesistente che vi fornisce il docente. Allora, per fare questo tutorial utilizzo un'attività che vi ho proposto, ossia di comporre un brano a partire dagli inizi, dagli incipit musicali che ho creato io. Ne ho proposti 12, li trovate in questo documento, probabilmente questo documento lo potete vedere da Classroom oppure è presente anche nel mio sito Auludie. Ad ogni modo, che cosa contiene? Contiene una serie di link e ogni link fa riferimento a un diverso inizio. Quello che vi consiglio è di ascoltarli un po' tutti, ce ne sono di tipi diversi, ci sono dei brani basati su riff, dei brani basati su giri di accordi. In questo testo spiego anche la differenza tra questi due principi. Ad ogni modo, quindi vi consiglio di cliccare sui link e poi di ascoltare i vari inizi per decidere poi quello che preferite. Per esempio, questo è l'inizio numero 4. Sono molto brevi, sono di 4 battute, a volte di 2, qualcuno addirittura di 8 battute, quindi si tratta di ascoltarli piano piano e farsi un'idea. Sono molto brevi perché sono proposte di moduli di accompagnamento che voi poi dovete continuare in maniera più o meno libera e poi dovete utilizzare per creare una melodia. Ascoltiamo anche il numero 2. Questo è ancora più breve, sono solo due battute. Quindi, come faccio per lavorare? La prima cosa che devo fare è assicurarmi di essere loggato, ossia di aver fatto l'accesso al mio account di NoteFlight, perché altrimenti non è possibile copiare questo brano. Allora, in questo caso io non ho ancora fatto l'accesso e quindi qui non compare il mio nome e quindi il programma non mi dà la possibilità di fare save e copy, di salvare una copia del file. Solo dopo aver salvato una copia io divento il proprietario del file e posso modificarlo. Quindi, se vi trovate in questa situazione, io vado su Sign In, Sign In Using Google. Mi raccomando, lo potete fare solo se siete loggati come studenti nell'account istituzionale. Scelgo il mio account. In questo modo io entro a tutti gli effetti nel documento. Se voi invece avete già effettuato l'account, non serve fare questo passaggio preliminare. Se voi, scusate, avete già fatto l'ingresso, l'accesso, il login a NoteFlight. Adesso cambia poco, però qua figura il mio nome, adesso sono come studente prova e nel menu score compare save e copy. Quindi posso salvarne una copia. E mentre si salva una copia, praticamente non cambia nulla. L'unica differenza è che adesso sono in grado di inserire delle note, se voglio. Quindi procedo ora a, prima di tutto, prolungare la formula di accompagnamento. Come faccio? Clicco sopra la battuta, compare un più ed aggiungo una battuta. Poi clicco sopra ancora la battuta per selezionare un blocco di tre pentagrammi contemporaneamente. La melodia è vuota perché ancora aspetta che io componga la parte nella melodia. Per completare l'estensione posso tenere premuto il tasto maiuscolo o shift che è in basso a sinistra della vostra tastiera. Lo tengo premuto per esempio con la mano sinistra e con la mano destra invece mi sposto con i tasti freccia verso destra per estendere la selezione. Ecco qua, adesso copio, CTRL-C ho questo tasto, clicco sopra la nuova battuta per il nuovo blocco, CTRL-V oppure paste, eccolo qua. E adesso il computer distribuisce in maniera diversa, il mio riff, il mio giro di accompagnamento è stato ripetuto per due volte di seguito. Ascoltiamolo nella sua ripetizione. Bene, a questo punto che cosa faccio? Vado a modificare la parte della melodia per scrivere una melodia. Vi consiglio di utilizzare le note dell'accordo, per esempio io decido di partire da un SOL, che è questo, scusate, però un'ottava sopra. Poi vi consiglio di non mettere note troppo alte e troppo basse con dei grandi salti slegate tra loro e vi consiglio anche di utilizzare, di variare il ritmo. Quindi, per esempio, io inizio con una semi minima. E proseguo in questo modo, dopo le crome, metto un'altra semi minima. Riascolto. E procedo ancora, stop, vado avanti. Bene. Dunque, dopo che ho scritto la mia prima battuta, posso anche decidere di andare avanti con nuove idee musicali oppure di utilizzare il principio della ripetizione con variazione. Quindi, seleziono la battuta che ho appena fatto, questa volta clicco sul pentagramma della melodia, perché voglio selezionare solo la melodia, copio, e vado avanti e incollo. modificando, per esempio, l'inizio della melodia, modificando invece la conclusione. Quindi, prima battuta, come fosse un'idea A, un'idea B, un'idea A di nuovo e un'idea C. E cambio ancora il valore di durata. Bene. E a questo punto ascolto, sempre ascoltare, fare delle modifiche, se poi quello che abbiamo scritto non ci convince. Bene. Se la melodia mi piace, proseguo. Ho scritto solo quattro battute e cerchiamo di arrivare a otto. Come faccio ad arrivare a otto? Per esempio, posso fare in una maniera abbastanza rapida. Vado sopra l'ultima battuta, clicco più per aggiungerne una, e poi seleziono, come ho fatto prima, in alto, maiuscoli con la mano sinistra, con la mano destra proseguo con i tasti freccia verso destra, fino a estendere la selezione alle quattro battute. Copio, vado sulla battuta successiva, sul blocco in alto, e incollo. A questo punto ho realizzato quattro battute, ripetendo le prime quattro per due volte. Se voglio andare a capo qua per vederle in maniera più ordinata, clicco sulla battuta precedente e schiaccio invio per andare a capo. Invio proprio il tasto della vostra tastiera. Posso decidere che le battute successive, nella loro ripetizione a partire da battuta 5, le seleziono in tutta la loro durata, vediamo se la selezione è completa, posso decidere che si ripetano con, per esempio, una variazione di altezza. Una cosa che posso fare è, dopo che l'ho selezionata, usare i tasti freccia su e giù del computer, della tastiera del computer, per spostare tutte le altezze selezionate, sia degli accordi, che del basso, che della melodia. In questo modo si mantengono coordinate tra di loro. Allora, ascoltiamole. Benissimo, questo lavoro mi ha permesso adesso velocemente di ottenere esattamente un brano di otto battute. Vi ricordo di modificare il titolo, anche con un nome temporaneo, e poi troverete un titolo più originale col calma, e poi di salvare, mi raccomando. A questo punto il vostro lavoro su NoteFlight è completo, ma vi ricordo che l'obiettivo è di scrivere qua gli schizzi musicali, le idee musicali, che poi vi serviranno per esportare il brano in SoundTrap. Ancora due indicazioni, come si fa a condividere, ve lo ricordate, vado su Score Details, Share, Share Score, poi devo selezionare Everyone, e salvare. Il vostro brano sta in un link che si trova qua, nelle opzioni di condivisione. Questo link, che è stato appena copiato, lo potete inviare poi al docente, per esempio, per mostrarglielo. Invece, per esportare in SoundTrap, vado sul menu Score, e poi Export, e say Open in SoundTrap. E a questo punto poi il lavoro procederà in un'altra direzione, ma lo vedremo più avanti. Buon lavoro, grazie.